Musica Sul piede di guerra i residenti e i commercianti del quartiere Vesuviana. Alla base del malcontento l'ordinanza del comune che blocca la viabilità e non permette la sosta di autoveicoli per otto ore in occasione delle gare interne della Turris che si terranno presso lo stadio Liguri. Ai microfoni di TV City il presidente del comitato di quartiere Giuseppe De Mino. Il problema che si sta riguardando questo quartiere è la domenica quando gioca la squadra della città, la Turris e praticamente i cittadini e i commercianti si lamentano del dispositivo che dura otto ore. Cioè è impossibile emanare un dispositivo che dura otto ore bloccando non solo un intero quartiere ma anche i commercianti che non riescono più a vendere i loro prodotti perché il dispositivo avviene dalle 14.30 quando gioca alle ore 17.30 poi dipende anche dagli orari. Noi vi chiediamo un incontro con il comandante di Vistone per trovare una giusta soluzione. La nostra proposta è di invece di otto ore magari di portarla a quattro ore questo dispositivo. Questo è un sequestro di persone perché uno torno dal mare trova tutto bloccato con quella pioggia che ha fatto domenica non potevo tornare a casa perché di qua non mi facevano passare e di giù non mi facevano passare. Sono dovuto stare in macchina poi mi sono portato la macchina in un parcheggio e sono tornato a casa. Questi hanno sequestro di persone non so chi ha la competenza di fare queste cose a Napoli si dice proprio assurde. Siamo stagi in casa nostra questo è l'allarme lanciato dai cittadini che chiedono soluzioni immediate all'amministrazione comunale. Disaggi analoghi anche per i commercianti da tutti la richiesta di una riduzione dell'orario del dispositivo. In poche parole è un grande disagio il non poter parcheggiare tante ore prima. Punto. Noi già siamo costretti a pagare una certa sifra durante la settimana per le strisce blu quindi è diciamo un dispendio economico tutta la settimana. in più ogni 15 giorni affrontare questa problematica delle partite con la strada chiusa di 4 ore prima è un grandissimo disagio. Una perdita di tempo diciamo che è un dispendio economico perché noi la macchina dobbiamo andarla a mettere in un parcheggio a pagamento durante le partite della Turis. Soprattutto secondo me c'è bisogno di più organizzazione. Siamo qui con un commerciante della zona lei quali problemi ha riscontrato? Effettivamente bloccare diciamo il passaggio delle auto dei pedoni diciamo 4 ore prima della partita effettivamente ci porta dei danni sarebbe auspicabile insomma bloccarlo un'ora prima in modo da alleggerire un po' questa situazione. Parlo non solo a nome mio ma a nome di tutti i commercianti della zona e anche delle persone che abitano e la cosa non creerebbe problemi né alla diciamo alla viabilità e neanche alla sicurezza diciamo per gli spettatori che vanno a vedere la partita. credo che sia la cosa più giusta se la potete valutare. Già c'è un po' di crisi poi ci chiudono le strade per una partita insomma non è giusto che paghiamo noi le pene per l'amor di Dio dobbiamo lavorare tutto anche il calcio è un lavoro però chiudere completamente una strada come io che vendo pane c'è la pasticceria c'è l'entile insomma ci sono i residenti io abito anche qua quindi è impossibile proprio circolare quella mezza giornata della domenica insomma e si potrebbe fare diversamente io penso voglio fare un appello all'assessore della viabilità e comunque se può risolvere qualcosina perché non si può andare avanti in questa situazione perché comunque è un danno per tutti noi commercianti della zona ma pure per i residenti perché comunque chiudere una strada quattro ore prima riaprirla quattro ore dopo è comunque un danno grazie a tutti Grazie a tutti.